ciao a tutti amici di slapo family siamo qui per recensire la fuccia 213 di casa sigelay box in colore arancio si presenta molto sgargiante eccolo qui lo scatolino andiamo a vederla da vicino si andiamo a vederla da vicino ok allora ragazzi eccoci qui con lo scatolino della fuccia 213 riporta il tabellino di colore arancione la scritta sigelay.com per andare al sito adesivo di garanzia marchio qr code e ancora fuccia 213 dietro troviamo alcune caratteristiche della box come il range dei watt che va da 10 a 213 il range dei volte che va da 1 a 7.5 il range delle esistenze che va da un minimo di 0.1 ad un massimo di 3 mom e poi il range delle temperature che va da 100 gradi celsius a fino a 300 gradi celsius e da 200 gradi fahrenheit fino a 570 gradi fahrenheit andiamo ad aprire la box basta sollevare questa parte dello scatolino andiamo a vedere che c'è sigla i security code quindi per la sicurezza della box per controllare che sia tutto originale e poi un manuale utente per il menu della box lo troviamo in inglese in russo e in cinese andiamo ad estrarre la box dalla scatola box che si presenta di colore arancione con una cover bianca vedete la cover fornita è già un ottimo option per questa box un colore arancione sgargiante e invece in questo scatolino qui come potete vedere troviamo il cavetto usb per la ricarica della box andiamo adesso ad inserire le pile ed andare a guardare il menu di questa box allora le pile vedete vanno in questo senso il positivo verso l'alto da questo lato e il negativo verso l'alto da questo lato andando a chiudere riporto la scritta fushani allora per andare a leggere qui abbiamo il voltaggio delle due pile abbiamo il livello di carica abbiamo la resistenza in questo caso non avendo montato un atomizzatore ci risulta nulla i volt di uscita e le ampere di uscita allora con tre clic 1 2 3 andiamo nella selezione delle modalità power acciaio titanio nicrom tcr e tfr andiamo a power mentre l'altro menu è quello per il pre hit con il tasto più il tasto accensione premuto andiamo a selezionare quello che è il nostro pre hit possiamo regolare i watt con aumenti graduali di un watt e i secondi di pre hit che vanno da dieci secondi vedete scorre molto velocemente fino ad un massimo di dieci secondi andiamo di nuovo al menu vedete riporta di nuovo il watt andiamo ad aumentare diva fino ad un massimo di 213 watt adesso andiamo a vedere l'ultima funzione che è quella che con cinque clic vedete 1 2 3 4 e 5 abbiamo bloccato i tasti della fushani la box non ha una funzione di spegnimento ma bensì una funzione di stand by automatico adesso andiamo a vederla da vedere di nuovo da vicino andiamo a vederla da vicino e andiamo alle considerazioni finali eccoci qui alla prova di svapo della fascia 213 gli abbiamo montato sopra un bella romamizer plus da 30 mm adesso guardate lì settiamo vedete 213 watt non me la posso mai svapare per subito in sicca con 213 watt ci andiamo da una resistenza da 0 22 direi un prete di 70 watt con assolutamente 60 watt di uscita quindi il prezzo 70 watt 60 watt di uscita allora questa box e poi che vogliamo dire come durate batterie allora io questa qui l'ho testata bene le batterie durano parecchio anche svapando 65 watt tutta la giornata arriviamo dalle 9 di mattino alle 19 di sera tranquillamente con una resistenza del genere e a me questa box piace piace esteticamente piace per l'ingresso delle batterie assolutamente comodissima piccolina leggera e con un ottimo circuito e poi si a parte l'ottimo circuito ma lo schermo cioè per come per come la gestione delle batterie che degli ampere del voltaggio a me piace molto e la cosa che mi ha subito che ho presi inizialmente la sigile 213 e non la facciamo niente erano una novità nel print che tutt'ora oggi c'hanno qualche box però il pretta aiuta molto aiuta le momenti scaldare resistenza del tipo clepto non ha chiuso di clepto quindi andare a una resistenza di quella con una funzione del pre it aiuta molto e da una situazione di svapo molto migliore direi una box di tutto valore i suoi 45 euro su gear best li vale se non pienamente ancora di più a una potenza che logicamente con resistenze adatte può arrivare fino a 213 watt perché non mi sognere mai di sparare una 0 10 a 200 watt ma una 0 40 200 watt me li arroga tutti a me piace tantissimo precedentemente ho avuto la sigile 213 la fuchsia è la versione diciamo più economica della sigile per una questione di materiali però comunque è spettacolare il mio voto personale sia per estetica per come circuito per praticità della box è un 9 e mezzo pieno mentre io confermo un otto ma giusto per i vari problemi ha avuto sì che lei durante l'emissione della box che è strassati quelli con il tcr e quelli con la questione dell'aggiornamento non perché alcune indiscrezioni dicevano a questa box avesse degli aggiornamenti anche sullo scatole riportato la possibilità di aggiornamenti invece la box non è aggiornabile però potenza di tutto rispetto e e anche emissioni c'è anche una durata della batteria che diciamo è molto molto ottimo io ci tengo a precisare che il mio 9 e mezzo è dalla modalità power mode assolutamente cr e tfr io non le ho mai utilizzate in vita mia e mai li utilizzerò quindi il 9 e mezzo è dovuto alla praticità della box e non ha controllato la temperatura che attualmente non ho mai utilizzato vabbè ragazzi salutiamo questo è tutto per questa recensione amata ci vediamo nel prossimo video alla prossima settimana ragazzi ciao a tutti a tutti